Buongiorno a tutti da Nicola di Utensieria Online. Oggi vi vengo a presentare il Simalube, un lubrificatore automatico. Il lubrificatore automatico Simalube viene avviato direttamente dal punto di lubrificazione, funziona in modo automatico e viene attivato con la semplice regolazione, che tra l'altro è modificabile in qualsiasi momento, dalla testata di comando posizionata in cima al lubrificatore. Il livello del lubrificante è sempre visibile attraverso la finestra che si vede qui laterale. Quindi ci permette di controllare in qualsiasi momento il livello del lubrificante inserito. È una soluzione veramente innovativa, anche se è da tempo che esistono questi tipi di sistemi nel mercato. La differenza di questo è che intanto non ha delle molle per la compressione, quindi per la spinta del lubrificante, ma ha una cartuccia di un gas che viene avvitata sulla sua umità e io la posso avviare in qualsiasi momento. Quindi con una regolazione da un mese fino ad un anno. La particolarità è che posso anche fermarla, quindi magari in periodi in cui l'impianto ha necessità di essere fermato, posso fermarlo e farla ripartire senza nessun tipo di problema. È una cartuccia che può essere ricaricata, quindi non devo smaltirla, perché ha un attacco filettato da un quarto gas e quindi è facilmente ricaricabile. Ci sono diverse confezioni che posso utilizzare, quindi da 30 ml, da 60 ml, da 125 ml o da 250 ml, alla seconda della quantità di grasso o del tempo di cui ho bisogno. Quindi questa è una soluzione veramente interessante per gli impianti dove magari la difficoltà di accesso per la lubrificazione è difficile, oppure in quelle situazioni in cui si vuole programmare quindi la lubrificazione. Quindi io so che per magari per esempio due mesi la mia lubrificazione è sicuramente garantita, quindi anche per i costi di manutenzione sicuramente vengono abbassati. Possiamo fornire queste cartucce vuote, come le vedete qui, oppure possiamo anche fornirle già riempite con del grasso. Possiamo fornire di grassi di diverse densità, quindi da 0, 00, 1 o 2. Possiamo fornirle a seconda delle richieste, quindi al litio, al teflon, per applicazioni alimentari, quindi anche omologati NSF o FDA, per alte temperature, oppure tutte quante le esigenze che magari ci sottoporrete. I nostri uffici sono a vostra disposizione e ci potete trovare sul nostro sito www.utenzileriaonline.it e in caso di necessità, ripeto, siamo a vostra disposizione. Vi ringrazio e vi saluto alla prossima.